Siete pronti, siete carichi? Sì, sì, assolutamente. Io non vedo l'ora di giocare. I play-off, scusate, l'ho sempre detto, sono qualcosa di eccezionale, soprattutto in Italia. Quindi non vedo l'ora che ci sia quell'omino con la maglia bianca lassù, perché abbiamo voglia di giocare. Passano i giorni senza partite, ma con soli allenamenti e cresce l'attesa. In casa Sir Susavim Perugia, il gruppo, come emerge da uno dei suoi leader, il libero Max Colaci è carico, ma sulla serie di semifinale Scudetto si comincerà nel weekend al Palabarton con avversario ancora da definire. Piacenza o Milano sono arrivati a gara 5. Incombe un terribile interrogativo. C'è chi dice che avere un paio di settimane di solo allenamento è proficuo per arrivare al meglio a questi grandi appuntamenti. C'è chi invece dice che si perde l'adrenalina della competizione. Lei di che partito è? No, sono valide tutte e due le cose. È chiaro che due settimane di lavoro in questo periodo qui non sono usuali. Quindi dire che tutti quanti, io e i ragazzi, sappiamo bene come affrontarle sarebbe una bugia. Ci siamo impegnati a far sì che in allenamento ogni palla fosse importante. Chiaramente il ritmo partita è qualcosa che si perde. Questo qui non si può fare diversamente perché due settimane sono abbastanza, soprattutto dopo una stagione così intensa. Però il nostro obiettivo sarà quello di riprenderlo velocemente, quel ritmo lì, portandoci dietro il lavoro fatto in queste due settimane. Per i Block Devils un'altra intensa settimana di lavoro e mercoledì sera tutti davanti alla TV diretta su Rai Sport per conoscere l'avversaria della semifinale, appunto Piacenza o Milano. Sono squadre diverse, bisognerà pensare a noi stessi e per qualcosina anche adattarsi al gioco differente delle due squadre.